Dall'avvio dell'emergenza ucraina sono più di 2.000 i profughi in fuga dalla guerra e giunti nella nostra regione. A prevedere un afflusso importante è anche il presidente Marco Marsiglio che nei giorni scorsi ha parlato di circa 10.000 arrivi nel peggiore delle ipotesi, ovvero se la guerra dovesse andare avanti. Secondo la protezione civile regionale, attualmente la provincia che ne sta ospitando di più è quella di Pescara, dove dall'inizio dell'esodo sono stati identificati 1.038 rifugiati. Di questi 552 si trovano presso strutture alberghiere, altri 486 invece si trovano presso case private, ospiti di parenti ed amici o in strutture messe a disposizione dai comuni. In provincia di L'Aquila gli ucraini ospitati sono 579, 15 nei casse e 564 tra abitazioni private e extra casse. Nel Chietino ci sono attualmente 337 ospiti, 20 nei casse e 317 negli extra casse, mentre in provincia di Teramo sono 155 gli ucraini in fuga dalla guerra, 34 nei casse e 121 in alloggi extra. Bisogna però fare i conti anche ad un'emergenza nell'emergenza, ovvero il covid, che non mola la presa. Dei profughi identificati in 1532 hanno già effettuato il tampone anti-covid, che resta obbligatorio fino al 31 marzo. Di questi 44 sono risultati positivi, mentre in 168 si sono sottoposti alla vaccinazione.